buongiorno a tutti oggi si va verso le montagne lo sentite anche voi richiamo richiamo dell'erba basta allasciamo questa siccità e andiamo dove l'erba rigogliosa fresca dove c'è acqua in abbondanza il viaggio con i camion è andato bene siamo arrivati le pecore sono scese e adesso facciamo un po di strada per raggiungere finalmente l'erba tanto desiderata sarebbe stato molto bello fare anche questo ultimo pezzo di strada a piedi come faccio tutto il resto dell'anno ma è talmente difficile trovare operai che si prestino ad aiutarci in questo lavoro così difficile e scomodo per appunto le le condizioni in cui ogni giorno ci si trova se piove si sta sotto la pioggia se c'è da camminare tanto e su statali a volte tocca alzarsi molto presto poi si riposa la notte nei trailer oppure addirittura vicino alle pecore quando magari c'è qualche lupo che gira e quindi in attesa dell'arrivo dell'operaio che sta arrivando adesso mi sta raggiungendo adesso ho dovuto caricare tutto sui camion e arrivare qua in montagna sui camion invece che camminare piano piano in due o tre settimane e arrivare qua su con calma ma finalmente ci siamo adesso siamo sulla statale che da santo stefano di cadore porta a sappada questa è una zona stupenda meravigliosa vi consiglio di venire a visitarla vi sono tantissimi paesini inerpicati su queste montagne che sono veramente paradisiache se mi seguirete potrete via via che salgo dai paesi fin sulle cime delle montagne fin sui crinali potrete vedere quanta meraviglia c'è qua attorno e vi consiglio di organizzare una vacanza venire a visitare questi luoghi stupendi e magari cogliere la mia proposta di seguirmi un po' quanto voi volete lungo la mia transumanza e per vedere non solo questi luoghi stupendi ma anche per provare l'esperienza unica straordinaria della vita da pastori transumanti quindi se volete organizzare una vacanzetta sono a disposizione scrivetemi che vi mando il numero per ulteriori informazioni ci vediamo alla fine del video da qualche commento buona visione siamo arrivati in montagna laggiù si può vedere campo lungo di cadore il viaggio è andato bene molto bene le pecore finalmente sono sommerse dall'erba quasi non si vedono anche oara mangia felice quindi cosa può esserci di più bello per un pastore mi godo lo spettacolo ascolto il fruscio dell'erba sento il profumo dell'erba di montagna sono assolutamente in armonia col creato mi sento parte di queste di questo paesaggio di queste montagne il cuore è pieno di gioia e mi viene quasi un po di commozione perché in questo momento percepisco proprio quanto sono fortunata a fare questa vita e quanta benedizione c'è attorno a me grazie alla vita grazie alla vita per avermi dato così tanto e se volete continuare a seguirmi in questo viaggio stupendo iscrivetevi iscrivetevi al mio canale e verrete in viaggio con me